ACTION GROUP E' una tipologia di evento formativo che inizialmente non avevamo preso in considerazione ma che credo sarà probabilmente il futuro perché permette ai professionisti di fare la formazione insieme con altri colleghi professionisti e con le aziende che portano il loro patrimonio di competenza e di conoscenza tecnica. E per il territorio cunese in particolare? Per il territorio cunese in particolare credo che non ci siano secondo me grandi differenze rispetto ad altri territori. È proprio la modalità di questo genere di evento formativo che permette di avere un maggior ricambio perché sono altri colleghi di altre province che vengono qui in combinazione con le aziende per costruire eventi formativi fatti dagli architetti per altri colleghi. Grazie! 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 Grazie!